I grandi leader, tutti gli uomini di successo avevano qualcosa in comune. Ma ora la verità potrà essere di nuovo rivelata. Il segreto può farvi ottenere qualunque cosa. Felicità, salute, ricchezza. Si può essere, avere o diventare tutto ciò che si vuole. A quante persone ho visto accadere miracoli? Miracoli finanziari, guarigioni da malattie fisiche, da malattie mentali, da problemi nei rapporti umani. Sono cose che accadono a coloro che sanno come usare il segreto. Questo è il grande segreto della vita. Il segreto è un segreto. Grazie. 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 Grazie.